Ti svegli sempre stanco? Ecco la soluzione. Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico all'aumento della prestazione e alla crescita personale. Se ti interessa superare te stesso e migliorare giorno dopo giorno, iscriviti subito al canale. Quando uno si sveglia al mattino vorrebbe sentirsi sempre pieno di energia, di entusiasmo, spumeggiante, frizzante, superattivo, carico, concentrato e invece molto spesso ci si sveglia e ci si sente come un bradipo in una fase acuta di depressione. Si fa una fatica pazzesca a fare i primi movimenti e si sente proprio come l'organismo e la testa non ti vengono dietro. Cioè tu vorresti anche attivarti ma fai proprio fatica nel senso che ti senti pesante, ti senti ancora stanco. Beh allora diciamo subito che in un'ottica di gestione ottimale del carico di lavoro a cui ti esponi durante la giornata, quindi l'insieme di impegni lavorativi, familiari, sportivi e il recupero e il sonno, in teoria non dovresti alzarti così. Cioè in teoria se il rapporto tra quanto spinge sul motore e quanto lo lasci recuperare è corretto, dovresti svegliarti in una buona condizione di energia. Eppure ripeto la maggior parte delle persone si trascina un po' fuori dal letto e deve compiere uno sforzo enorme per entrare nel ritmo della routine quotidiana. Ma dal mio punto di vista in un'ottica di coaching proprio questo è il primo problema. Cioè stiamo cercando di far passare immediatamente il nostro organismo da uno stato di bassa attività tipico del sonno immediatamente a uno stato di alta attività tipico della routine quotidiana. Facci caso se uno si sveglia al mattino e poco dopo è immerso nel traffico intenso della prima mattina di una grande città pensa che differenza di stimolazione c'è per il tuo cervello da uno stato appunto di riposo come quello del sonno a uno stato di iperattivazione come quello del guidare nel traffico. Io credo che proprio questo sia un po' l'errore. E dal mio punto di vista la soluzione è quella di creare proprio una specie di cuscinetto tra la fase del sonno e la fase di attività perché se tu provi a spingere a velocità eccessiva il tuo organismo dallo stato di riposo allo stato di massima attività l'organismo non può che percepire questo come una minaccia e tentare di proteggersi quindi da un certo punto di vista quasi remare contro di te e dice no aspetta un attimo mi stai tirando un pochino troppo. Creare questo cuscinetto serve proprio per attivarsi in maniera più dolce, dare qualche minuto di tempo al tuo corpo e alla tua mente per avviarsi e anche utilizzare quel cuscinetto per direzionare quel percorso di avviamento in modo tale da partire anche con lo stato dell'umore migliore. Ora la mia soluzione che appunto è la mia, te la dico non deve essere identica per tutti però ti può probabilmente dare qualche spunto, la mia soluzione è quella di inserire qualche minuto di stretching, io sento immediatamente il bisogno di allungare i miei muscoli, di riattivare dolcemente il corpo prima di partire per la giornata, tanto più necessario se la giornata comincia per esempio con un allenamento perché anche prima stavo facendo l'esempio del traffico ma anche se passi dal sonno all'allenamento, è un salto piuttosto brusco per il tuo corpo, quindi prima di tutto qualche minuto di stretching per allungare e attivare dolcemente la muscolatura. Poi quello che faccio è inserire subito la meditazione, 5-10 minuti di meditazione ripetendo un determinato mantra che è il mantra che mi interessa percepire, mi interessa che il mio cervello assorba per partire nel modo migliore con la giornata. La meditazione in genere al mattino la concludo con un'attivazione del corpo, potrebbe essere qualche contrazione muscolare molto forte per iniziare a sentire la muscolatura, potrebbe essere contrariamente la respirazione addominale lenta che rilassa una respirazione, un'iperventilazione toracica per attivarsi. Certo se lo fai in balcone e ti vedono i vicini di casa le prime volte potrebbero pensare che sei un po' strano ma magari poi glielo spieghi e convinci anche loro. Ecco questa attivazione del respiro serve per iniziare ad attivare anche il sistema nervoso autonomo, il passare da una attivazione maggiore del parasimpatico al simpatico che è quello che poi ti permette di affrontare la giornata. Subito dopo questo io in genere dedico altri 5-10 minuti alla scrittura del diario perché quella invece è la parte più razionale, più cognitiva dove magari comincio a ragionare sugli obiettivi della giornata, sulle cose che voglio migliorare rispetto alla giornata precedente. Ora ripeto indipendentemente da che cosa scegli di fare il concetto qui è per passare nella maniera più fisiologica dallo stato di riposo allo stato di piena attività ci vuole un cuscinetto in cui inserisci delle attività che permettano al tuo corpo di arrivare nelle condizioni giuste alla piena attivazione perché c'è una cosa che voglio ricordarti in conclusione per vivere per essere in alta prestazione devi prima di tutto conoscere il tuo organismo ma poi soprattutto imparare a rispettarlo.